Questa me l'ha detta François Morellet, grande artista francese. Le opere d'arte sono come prati dove fare i picnic, prati accoglienti, puliti, senza formiche, dove cantano gli uccelli ma non caccano sulla tovaglia. Questo fanno gli artisti allestine, prati perfetti per fare merenda. Ma il cibo, quello, se lo portano i compagni di merenda. Uno porta pane e mortadella, mangia pane e mortadella. Uno porta pane e nutella, mangia pane e nutella. Con scambi prevedibili, naturalmente. Io do a te un po' di mortadella, tu dai a me un po' di nutella. Così si scambia la cultura.